C'è la grappa? C'è la grappa? C'è già la bottiglia ancora C'è già la bottiglia ancora C'è già la bottiglia C'è questo capo che c'era Di solito la pensa a me Però non sento Che bruttino Però Stai attento Stai a mangiare 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 Zia però non è giusto Tu vuoi più e più e meno Nooo Ti vuoi ambrugliare Ma che sta a mangiare? E tu vuoi ambrugliare No no Perché tu te ne avevo voto due E io due E' normale Della terra Lo guarda E' un burocchio Barricchino E' scavata E' un tubo E' lì E' diello Ti avvengono Ti avvengono Mua e chi è Ma questo è uno stagione Non c'è uno stagione E' l'acqua E' la tazza E' la tazza io mi ce l'ho già messo te la vuoi che l'hai rullato? non c'è niente non c'è niente non c'è niente buona di poco come? metti la pasticca vuoi passare questa foto con questa pasticca? andate i cucinelli che è l'opportunità io non io non ma che non io non ma che gli usci io mi cazzate non ti ho fatto non ti ho fatto non non ma e scena a me finti... si metti la pasticca la pasticca Sì, no, 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 no. Sì, no, no, no. No, no, no. Eh? Eh, la bottiglia riserva. Ma tu, quello c'è questa roba, ma i parigi. Perciò non ti finisce bene. Eh, usaci, diciamo, usaci. Ah, ci sei la buccia riserva. Hai visto che la cina, la retina, la chacuareia. A voi lo vuoi che non può crezare. Ma a puzza caso! Giuseppe! No, no, no. Non ti preoccupare come diceva che risulta. No, no. Eh, da! Vecch, com'è un picchiera. Se vuole un picchiera. Ma se io stasera non ti fanno male gente, quando io mi acaso delle malattie. Non c'è la mia scuola. Non c'è la roba tua e fate capire. Io ne ho parlato. Tu, quanti vatti tu? Un piatto mio, un piatto mio! Ok, vatti vatti la cacatata. Tu hai parlato? Tu hai parlato? No! Ok, ma... Tu cacatata! Venite, bevi! Tu cacatata, acqua! Avete una bucchiera grande? E' acqua, e' acqua! Ma un po' quattro e io non c'hanno dopo. Cale faccio la fraccia? C'è messaggio? Chi ha messaggio? No! No! Giuseppe mi ha dato un passaggio! Non bello, Giuseppe mi ha dato un passaggio. E' lui? E' lui non è tu! E' lui? E' lui? E' lui? Sao... E tu? Buon... Ha che c'è ma tempo qui sei l'orso cadere! E lui? Radeur. Che accanto da quando vabbiamo là? Ma voi ti avrete già. Ma ci ritieni? No, no, no. C'è, c'è. C'è, ma... La mucinatura vuoi? Ma tu vuoi un fulgo? Guarda qui, ma... Oh, quanti c'è! No, guarda che mi avevo! E noi è la seconda volta che... Tu sei l'oprimo! Sì? Ma questo non ci crede. Ma questo è l'oprimo! E' l'oprimo! E' l'oprimo! Ma grazie! E' la miseria! No, perché tu dici... Noi siamo due volte! E' buono che si fanno quella cosa qua! Assun! Ma perché? No, la sera è festa! E' la fulgare che vuoi... E perché tu porti la fulgare? No, no, perché non è veniva! Perché non è male! No, no, per me cosa sta! E' la fulgare di questo? E' la fulgare di questo? E' la fulgare di questo? Ma che lei ha fatto una cosa? La fulgare di tutto! Ma tu le porti via! Dovrebbe essere loro! E' un postello? No! Se tu lei è netto è bai pillone! Aspetta! Tu hai benito con me! Lui g� Ed è finita!